Domenica 14 maggio si corre la Lago Maggiore Alf Marathon tra Stresa e Verbania. Attenzione alle limitazioni alla circolazione. Il primo tratto del percorso è quello tra Stresa e Ferriolo di Baveno, lungo la Litoranea, la Statale 33. Tratto off-limits dalle 8.45 alle 10.45. La partenza della mezza maratona è da Piazza Marconi a Stresa. Secondo segmento dalla rotonda di Ferriolo di Baveno, poi verso Corso Milano, via Piano Grande, il ponte sul Tocce con il raccordo statale 33-34 e fino alla rotonda di Verbania-Fondotoce. Qui il traffico veicolare è bloccato dalle 9 alle 10.45. Tra Verbania-Fondotoce e Verbania-Suna fino all'incrocio della Beata Giovannina non si passa dalle 9.15 alle 11.15. Strada alternativa è quella di Bieno. Ultimo tratto di maratona è quello che comprende via Trubetzkoi, via Castelli, piazza Gramsci, via Leazzari, Corso Europa, via Vittorio Veneto, Corso Zanitello e fino a piazza Garibaldi a Pallanza. Queste vie e piazze saranno interdette ai veicoli dalle 9.30 alle 12.00. Grazie.